La ludopatia è una dipendenza da non sottovalutare per gli effetti che provoca. Il rischio a cui può incorrere il ludopatico non è solo la perdita incontrollata delle proprie risorse economiche, ma anche di mettere da parte le normali attività quotidiane, come lo studio e il lavoro, e i propri cari. Gli italiani hanno speso, secondo i dati ufficiali del 2017 e dei monopoli di Stato, oltre 100 miliardi. Il ludopatico si illude di poter vincere, ma i numeri dimostrano il contrario. Non è così? Il gioco d'azzardo è costruito su un'illusione, ma è un'illusione costruita su come funziona la nostra testa. Bisogna cercare di capire come funzionano quelle illusioni, ma non solo dicendo guarda che è un'illusione, spiegare quali sono i meccanismi nostri cognitivi per cui quell'illusione si costruisce. Fare 6 al super enalotto e 1 su 622 milioni, 614 milioni, 630 milioni, la probabilità. Come la traduco io? La traduco che a qualcuno capita, potrà capitare anche a me. È difficile, ma potrà capitare anche a me. Ma mentre dico questa cosa, sto già facendo un errore cognitivo enorme. Mi avvicino molto di più a una corretta percezione se penso che a me non capiterà. Per quanto riguarda l'Abruzzo, le province di Teramo e Pescara sono quelle dove si gioca di più. A Rocca San Giovanni, comune di 2300 abitanti della provincia di Chieti, spetta il preoccupante primato per giocate nelle slot machine. L'Abruzzo ha il triste primato del numero di apparecchi per 10.000 abitanti, che sono 8,46. E Lanciano, questo primato, lo ha superato con 12,4 apparecchi per 10.000 abitanti. E quello un po' più preoccupante è la vicina Rocca San Giovanni, che è tra le prime 10 città d'Italia, nelle quali si gioca negli apparecchi di slot oltre 21 milioni di euro. Con giocate per 9.053 euro pro capite, che anche molti dei nostri cittadini si rechino lì o che sia in una zona di passaggio per cui da altre città si venga a giocare a Rocca San Giovanni. Quindi c'è molta economia che si perde in questo tipo di attività.